cari amici di serie in festa buongiorno e buon mercoledì 15 giugno siamo arrivati in un baleno anche a metà mese e oggi vi anticipo già non sarò sola verranno a trovarmi l'orchestra vegas partiamo subito con la nostra mattinata in musica si parte con claudio band che ci presenta maledetto quel giorno subito dopo gli aree 22 ci presentano pensiero d'amore vi auguro un buon mercoledì guarda che temporale un giorno da raffreddore dove sei che sono ancora ad aspettarti come l'estetico artificiale faccio finta di non sentire fino a che mi addormento non resta più niente la gente torna da lavorare si fa compagnia col televisore a tuo modo la mia compagnia sei tu quanto mi capita di sbagliare sempre vicino all'imperfezione quanto mi manchi quanto quanto mi manchi non credevo di starci male quale detto quel gioco al mare che ti ho visto passare guardarmi i destini in un attimo ci ha fregati impossibile tanto a tenere come il mare dentro un bicchiere il roente passione per cui non è stato sbocciato un eterno amore ma di eterno non aveva niente il nostro amore maledetto quel giorno maledetto quel giorno senti che confusione sarebbe un giorno da festeggiare dove sei che passo il tempo ad immaginarti è una parentesi estemporanea faccio finta di non capire fino a che mi accontento e non sento più niente la gente stanca di lavorare si mette allegria col televisore a tuo modo la mia allegria sei tu quanto mi capita di sbagliare sempre vicino all'imperfezione quanto mi manchi quanto quanto mi manchi non credevo di starci male maledetto quel giorno al mare che ti ho visto passare guardarmi i destini in un attimo ci ha fregati impossibile dentro a tenere come il mare dentro un bicchiere il roente passione per cui un istante sbocciato un eterno amore ma di eterno non aveva niente il nostro amore maledetto quel giorno ma di eterno non aveva niente la nostra storia maledetto quel giorno non credevo di starci male maledetto quel giorno al mare che ti ho visto passare guardarmi i destini in un attimo ci ha fregati impossibile dentro a tenere come il mare dentro un bicchiere il roente passione per cui in ogni istante sbocciato un eterno amore ma di eterno non aveva niente il nostro amore maledetto quel giorno ma di eterno non aveva niente la nostra storia maledetto quel giorno ma di eterno non aveva niente il nostro amore maledetto quel giorno ma di eterno non aveva niente la nostra storia maledetto quel giorno ma di eterno non aveva niente questa sera voglio farti un regalo che ti faccia ricordare chi scordarti non sa ho sentito questo disco suonare l'ho comprato per te perché pensi un poco a me questo disco è il mio pensiero d'amore per te per te ogni volta che lo senti suonare pensa a me pensa a me a me accetta questo regalo se il mio amore non vuoi questo almeno vorrai ma un regalo non si butta mai via quando sola resterai potrà farti compagnia questo disco è il mio pensiero d'amore per te per te anche se non potrà farti tornare con me con me come passi adesso le tue serate cosa fai con chi sei sei felice con lui ma se un dubbio ti riporta al passato dove sono lo sai puoi chiamarmi se vuoi questo disco è il mio pensiero d'amore per te per te ogni volta che lo senti suonare pensa a me pensa a me pensa a me a me questo disco è il mio pensiero d'amore per te per te ogni volta che lo senti suonare pensa a me pensa a me a me questo disco è il mio pensiero d'amore per te per te e dopo questo bellissimo brano continua così la nostra puntata lo facciamo con una rubrica che seguite con molta attenzione loro sono gli appuntamenti consigliati della settimana prendete appunti per info densinevada via olmo 1 terrosa di roncaa verona per info densinevada puntiti giovedì 16 si balla con silvia urbani sabato 18 oscar e fausto in sala 2 lattino chizomba il ristorante pizzeria cachiatore vi aspetta con ottime specialità Pizzeria Roncari, Cornedo Vicentino, per info 044-5951-199 Tutti giovedì si balla nel terrazzo estivo con ingresso in libero Giovedì 16, Mister Domenico, il ristorante propone specialità della casa e ottime pizze Settantesima edizione, Festa del Risotto Villimpenta a Mantova 16 giugno, Orchestra Jonathan e Gianni Dego Venerdì 17, si balla con l'Orchestra Bagutti 18 giugno, Latinoamericano Gran finale, Domenica 19 giugno con l'Orchestra Katia Domeniche aperto anche a mezzogiorno Tutte le sere ballo, ingresso libero, ampio parcheggio Stai cercando un locale accogliente e familiare per le tue serate in compagnia? La pizzeria Paradiso di Roncanova ha la soluzione che fa per te Preparatevi a gustare ottime bere artigianali Pizze classiche a mezzo metro, cotte in forno a legna, anche da sporto E per concludere con dolcezza le vostre serate, lo staff vi sa fratentare con una selezione di sfiziosi dolci L'ampio giardino estivo con più di 100 coperti è l'ideale per le vostre cene estive Inoltre per i più piccoli troverete un'attrezzata area baby Pizzeria Paradiso da 26 anni al vostro servizio Via Roma Roncanova Per info e prenotazioni 0442 58052 35esima festa Castel Bricondo Sobuono Verona Venerdì 17 alle ore 21 serata Invasioni Sonore Concorso per band e cantanti emergenti Sabato 18 si balla con i Rodigini Domenica 19 orchestra Daniele Cordani Lunedì 20 orchestra Magri e Lisoni Serata con ospiti con luce Serena Carletti Ospiti Giampiero Vincenzi Orchestra Andrè e Souvenir e Ilegna i Festival Stand gastronomici Pesca di Beneficenza Ingresso libero Il comitato Macacari Oggi presenta 37esima festa di fine primavera Macacari Verona Dal 17 al 21 giugno Venerdì 17 ali neri in concerto Tributo ai Nomadi Sabato 18 si balla con Arianna Group Domenica 19 orchestra Morris e Paola Fabiani Lunedì 20 orchestra Lara Agostini Martedì 21 si balla con i Rodigini Stand gastronomici Luna Park Pesca di Beneficenza Ingresso libero Orchestra Nadia Nadivi aspetta sabato 17 e domenica 18 settembre a Marebello di Rimini per un weekend in musica tutto incluso a persona sui 110 euro Prenontazioni entrano inoltre il 31 luglio per info 338 217 9710 per gli amici di Verona partenza da Mantova Nord Ristorante Pizzeria Stella la trovate a Correzzo di Gazzo Veronese in via Dante di Ieri 22 vi aspetta con colazioni, aperitivi, pranzi di lavoro a menù fisso e cene anche da sporto aperto dal martedì alla domenica nell'ampia sala potrete assaporare carne, pesce, pasta fatta in casa risotto colerane, tagliatelle e ottime pizze con farine speciali ed ingredienti selezionati il ristorante Pizzeria Stella vi aspetta a Correzzo di Gazzo Veronese per info 0442 58007 se volete vivere la vostra casa in tutta la sua bellezza Segala Ceramica saprà esaudire ogni vostro desiderio lo staff attento alle esigenze del cliente è sempre cordiale vi aspetta dal lunedì al sabato nello showroom a Gazzo Veronese in via Canove i professionisti del settore sapranno consigliarvi il meglio per la vostra casa accompagnandovi nell'ampia esposizione di arredo bagno qui infatti troverete molte idee dalle più tradizionali alle più moderne ceramiche, rubinetterie, sanitarie colonne per box doccia e molto altro fiore all'occhiello il fornitissimo reparto stufe e caminetti a pelez e a legna ad un ottimo rapporto qualità prezzo e ancora parchè, pavimenti e rivestimenti per tutti gli spazi abitativi grandi promozioni da cogliere al volo nel reparto Outlet con occasioni di fine serie presenti tutto l'anno per toccare con mano la qualità dei prodotti venite a trovarci siamo aperti dal lunedì pomeriggio al sabato Segala Ceramiche da più di 30 anni veste la tua casa il ristorante Pizzeria e Pescatori vi aspetta a Roncollarige in via Valmarana 4 aperto dal martedì alla domenica dalle 7 alle 24 ampio parcheggio, ottima cucina di carne e pesce musica dal vivo nel fine settimana in tutto il periodo estivo per info e prenotazioni 045 6615 229 il prossimo brano che andremo ad ascoltare dell'orchestra Morris e Paola Fabiani è un mix di Loretta Goggi con l'occasione vi ricordo che potrete ascoltarli dal vivo proprio questa domenica 19 giugno presso la festa di Macaccari ma ora spazio alla musica l'aria del sabato sera ritorna leggera da me l'aria del sabato sera ritorna leggera da me la festa di te avevo chiuso però non saprò dirti di no comincerà che non voglio e dopo mi sfoglio mi basteranno due fiori rinuncio a andar fuori e lascerò che fra noi tutto ritorni com'era aria ruffiada e leggera del sabato sera sabato mi succede ogni sabato che mi accorgo che è sabato perché sento nell'aria la voglia di te è ancora un sabato da non perdere sabato come l'ultimo sabato per rivivere la prima volta con te tutta scena caro mio ridi troppo che cos'hai ti darò una mano io se non ce la fai e ti parlerò di me tanto che la scorderai te la strapperò dall'anima e tu mi vorrai ci concediamo una brevissima pausa pubblicitaria poi saremo ancora qui con gli ospiti del giorno vi aspetto ed eccoci qui anche in questo mercoledì accanto alla nostra cassettina che ormai è una cassettona rossa della posta pronti per ricevere le vostre richieste partiamo subito con il brano Quel poco che resta richiestoci dalla signora Marisa di Gioia della Scala l'orchestra è quella di Gipo Pezzotti subito dopo arriva anche Stefania e Mamma Mia con il brano Ti sposerò Giovanna come forse non lo sono stata mai di fronte a quei tuoi occhi un po' speciali che hanno pilotato tutti questi anni miei passando da ristinti naturali e tu come un bambino tra sogno e realtà giocavi a consumare questo amore e sei riuscito a farmi male lasciandomi soltanto un gran dolore raccolgo di te quel poco che resta ma dentro di te il vuoto fa festa amore che vai hai finito le scale e questa partita ti è andata male respiro di te quel poco che resta e quel che mi dai lo sai non mi basta e in questo bicchiere ormai già parato mi bevo il tuo addio e ti saluto amore mio la nebbia si dirà da un nuovo giorno e qui per me si vede un po' la strada il cielo è blu labrina si distende sulle rose ma su quelle che non mi hai donato tu raccolgo di te quel poco che resta ma dentro di te il vuoto fa festa amore che vai hai finito le scale e questa partita ti è andata male respiro di te quel poco che resta e quel che mi dai lo sai non mi basta e in questo bicchiere ormai già pagato mi bevo il tuo addio e ti saluto amore mio non provare a cercarmi io non ci sarò non ci sarò non provare a chiamarmi non risponderò non risponderò non risponderò raccolgo di te quel poco che resta e quel che mi dai lo sai non mi basta e in questo bicchiere ormai già pagato mi bevo il tuo addio e ti saluto amore mio stavo sognando di te la donna del mio destino sostegno del mio cammino di quanto vali per me e là sull'altare davanti alla gente davanti a Dio giurerò fin quando è finita per tutta la vita oggi io qui prendo te ti sposerò ti amerò con il fiorir delle rose di maggio ti sposerò e sarai mia con il profumo dei mandorli in fior stavo sognando di te certezza del mio futuro chiaro ora e quando nel buio sembrerà tutto più scuro e quando un bel giorno promesso all'amore un figlio mi donerai sarà andare piano sarà andare lontano oggi io qui prendo te ti sposerò ti amerò con il fiorir delle rose di maggio ti sposerò e sarai mia con il profumo dei mandorli in fior ti sposerò ti sposerò con il fiorir delle rose di maggio ti sposerò e sarai mia con il profumo dei mandorri in fior Ristorante Pizzeria Stella la trovate a Correzzo di Cazzo Veronese in via Dante di Ieri 22 vi aspetta con colazioni, aperitivi, pranzi di lavoro a menù fisso e cene anche da sporto aperto dal martedì alla domenica Nell'ampia sala potrete assaporare carne, pesce, pasta fatta in casa risotto con le rane, tagliatelle e ottime pizze con farine speciali ed ingredienti selezionati Il ristorante Pizzeria Stella vi aspetta a Correzzo di Gazzo Veronese per info 0442 58007 Serin Festa è visibile sul canale 16 di Telearena ma puoi seguirci anche tramite il nostro sito web Scopri come! Dal motore di ricerca cliccate www.carlettispettacoli.it Vi si aprirà direttamente la nostra pagina web Dall'icona Serin Festa accederete alla pagina Facebook dove troverete foto, curiosità, anteprime della nostra trasmissione Dal sito telearena.it potrete seguirci in streaming cliccando diretta Se avete perso qualche puntata la troverete sul nostro canale YouTube Carletti Spettacoli dove verranno caricate interamente Infine su contatti ed eventi potrete trovare i nostri recapiti e gli eventi settimanali aggiornati Seguiteci! Il ristorante Pizzeria e Pescatori vi aspetta a Roncalladige in via Valmarana 4 aperto dal martedì alla domenica dalle 7 alle 24 Ampio parcheggio, ottima cucina di carne e pesce musica dal vivo nel fine settimana in tutto il periodo estivo Per info e prenotazioni 045 6615 229 Stai cercando un locale accogliente e familiare per le tue serate in compagnia? La Pizzeria Paradiso di Roncanova ha la soluzione che fa per te Preparatevi a gustare ottime bere artigianali Pizze classiche a mezzo metro cotte in forno a legna, anche da sporto E per concludere con dolcezza le vostre serate lo staff vi sa fratentare con una selezione di sfiziosi dolci L'ampio giardino estivo con più di 100 coperti è l'ideale per le vostre cene estive Inoltre per i più piccoli troverete un'attrezzata area baby Pizzeria Paradiso da 26 anni al vostro servizio Via Roma, Roncanova Per info e prenotazioni 0442 580 52 Ed eccoci qui come preannunciato Oggi non sono sola per festeggiare questo metà giugno Abbiamo con noi Marcella Anita dell'Orchestra Vegas Ciao ragazzi Ciao a tutti, ciao, ciao Serena, ciao Finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo rimandato un po' questo appuntamento Ma oggi ci siete Ci siamo, finalmente siamo felicissimi di essere ritornati qua Sempre Anita, guardate, è sempre bella flore Non poteva mancare la sua coroncina Fiori sulla maglia, fiori in testa dappertutto e viva il colore E viva Poi si apre l'estate finalmente per cui Esatto Colori Ci voglio Siamo già a metà mese qui Tra poco saremo già a settembre Lo so che finirà Esatto Vola Vola Si attende tanto l'estate Poi in un batter d'occhio finisce È vero, è vero Però sarà intensa come sempre Come sempre Cosa prevede l'Orchestra Vegas? Tante serate? Sì, sì, sì Adesso appunto abbiamo aperto bene la stagione estiva Sta andando tutto bene Tanto riscontro e siamo felici Bene Avete cambiato qualcosa nella vostra formazione Siete rimasti nella formazione nello scorso anno? No, c'è una new entry Il bassista nuovo Che si è appunto amalgamato bene con noi È una persona molto divertente Insomma Quindi spirito Vegas Al cento per cento Il divertimento non manca Nemmeno quando la cantante cade Aiaiai, Serena Ti abbiamo beccata su Facebook Sì Sono stata la prima io A mettere i vari fotogrammi Del mio scivolone in pista Succede Sì, succede Però sono ancora qua Sana e salva Sono riuscita a cantare A continuare a cantare Perché noi facciamo tutto dal vivo Certo Sia repertorio sia la pista Per cui Sana e salva A posto Bene La tua con questi tacchi Ci fa anche fatica a volte Mannaggia Poi insomma Madre natura Altezza non me l'ha data Quindi ho le protesi Sempre con me Che mi alzano un po' Almeno 10 centimetri Però è andato tutto bene Tutto bene Marcello ma voi eravate un po' distratti Però mi sembra Sì Guarda Gli altri Quando ho visto gli altri Che stavano ridendo Allora Guarda E poi hanno continuato Anche l'altra sera Dopo la sera dopo E beh Adesso diventerà ovviamente Il must Ma a me è bello Queste cose sono belle Il bello della diretta Il futuro c'era qualche fan Non attento Che ha dato una mano a Anita Perché sennò Insomma Voi eravate da sul palco Allora Vado avanti Vabbè Insomma Questi uomini Bisogna sempre stare un po' attenti Che Eh Bisogna stare un po' attenti Bene Allora diciamo qualche appuntamento Per quanto ci riguarda Perché sarete proprio Tra qualche giorno Per la caneta e spettacoli Appunto A San Pietro di Cavalzo Del 19 giugno Mentre Ed agosto Sarete il 7 agosto Ad Albare Una bellissima località Del lago di Garda Bella festa Salutiamo il comitato Che ci segue sempre E il 14 agosto Un'altra grandissima festa Veronese Parliamo di Bure Mi raccomando Marcello Quella sera lì Infatti ci fa bella figura Vero come sempre Naturalmente Non c'è problema Io prometto di non cadere Ok No Se qualcuno lo richiede Vuole il bis Si si è incluso Incluso nella serata Possiamo ripetere La Fatta Bene Come sempre Noi facciamo delle serate Meravigliose E Belle La gente ci segue sempre E quindi Ogni sera Naturalmente suonando Anche dal vivo Ogni sera Non è la stessa sera Quindi Hai capito Cercate di accontentare Un po' tutte Sì certo Ricordiamo un po' Anche il vostro repertorio Che proponete Nelle serate Se avete qualcosa In particolare O Guarda 360 gradi Di tutto Di tutto Di più Però a Nita Sappiamo che Le piace in particolare Qualche genere Cosa ti piace Nita Di particolare Beh vabbè Il mio mito è Tina Turner E quindi non a caso In pista Faccio the best Però devo dire Che insomma La musica è tutta bella In tutte le sue sfumature Anche perché cantare Un stesso genere Sempre Risulterebbe pesante Sia per chi lo canta Che lo ascolta Poi ovviamente Nel mondo del liscio La prima parte È tutta dedicata Al liscio tradizionale Classico E poi c'è la parte Dei balli di gruppo Fino a salire Un po' con il ritmo E niente E quando scattano I balli di gruppo Tu amante della danza Appunto I balli caraibici Non ti puoi trattenere Eh mannaggia Infatti lì Sono sempre un po' Incerta Se rimanere sul palco O scendere E giù a ballare No devo dire Che mi scateno Comunque su Anche in palco Sì 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 Guarda Musica Ballo Divertimento È una cosa Meravigliosa Benissimo Finché stiamo parlando Sentite qualche rumore Di fondo Perché come sempre La nostra caricaturista Charlotte Mi sta preparando La vostra caricatura Siete curiosi? Eh tanto Ti raccomando Charlotte Allora Facciamo così Andiamo in pubblicità E tra poco Rientriamo Per vedere questa creazione Per continuare a parlare Con i nostri ospiti A tra pochissimo Ciao Ed eccoci qui sempre in questo mercoledì In compagnia dell'orchestra Vegas Ragazzi tra poco Metteremo anche la vostra foto Qui nella nostra nuova parete Eh sì Non può mancare Esatto Tutti i nostri ospiti Che sono accorsi Nel salottino di Serinfesta Salottino delle chiacchiere Dove si racconta un po' In questo anno E le novità Che rappresentano appunto I vari gruppi Che ci vengono a trovare Dunque domani Anche voi sarete Ottimo Sarete con noi Marcello preparati Preparati Marcello A fare un bel selfie Noi siamo ormai brave Insomma fare i selfie Siamo esperte Bene siamo pronti Per vedere la caricatura Ancora prima però Volevo ricordarvi Dove potete trovare Gli appuntamenti Dell'orchestra Vegas Dove li troviamo Anita? Li trovate sulla nostra Pagina Facebook Orchestra Vegas Chiedeteci l'amicizia Tanto ormai sapete benissimo Come funziona Il sistema di Facebook E niente Li trovate tutte le nostre foto Tutti i nostri appuntamenti E o varie informazioni Per cui li seguiteci E noi ci siamo E vi rispondiamo Bene per tutti quanti i contatti Per informazioni Ne serate Anche le serate recuperate Insomma per i last minute Esattamente Voi tenetevi aggiornati Appunto con l'orchestra Vegas Su Facebook Noi ragazzi ci vediamo allora Prossimamente nelle nostre feste di piazza Certo Con vero piacere Ti aspettiamo Senz'altro Salutatemi il vostro cantante Che sappiamo che è il sosia Di un famoso attore Eh sì L'abbiamo etichettato Roberto Corazza L'abbiamo etichettato Roberto Sì infatti salutiamo tutti quanti Michele Toniolo Sax Voce tastiere Sergio Cataldi Che è il bassista Orazio Barichello Che è il nostro batterista Poi c'è Nello Castiglione Alla chitarra elettrica Il maestro Marcello Serafini Tastiere Fisarmonica E io la voce femminile Le sa tutte Brava Fatto tutti Non ho dimenticato nessuno I titoli di Coda Ci stanno alla perfezione Ottimo E soprattutto invitiamo il nostro pubblico Che magari non conosce ancora Questa bravissima orchestra Che è l'orchestra Vegas A correre numerosi In queste serate danzanti Che noi vi proponiamo Nei nostri appuntamenti consigliati Tutti i giorni Voi scrivetevi dove sono a suonare E andate a ballare con loro Esatto Mi raccomando Ed ora pronti per la consiglia Della caricatura Ed eccoci qui Ci siamo Ma che meraviglia Mamma mia Wow Anche a colori oggi Di solito è bianco e nero E anche ho avuto la mia a colori Dunque brava Charlotte Grazie perché ti ho ispirato Un po' di colore Grande applausi Come sempre per te Ottimo Grande Charlotte Grazie Diciamo sempre In pochi minuti Riesci a creare questi quadri Perché tali sono E ricordiamo anche I nostri comitati in ascolto Se volete contattare Carletti Spettacoli Per avere Charlotte Nelle vostre feste Qualche evento privato Non esitate a farlo Noi vi daremo Tutte le informazioni necessarie Ragazzi Che dire Dopo questo meraviglioso regalo Io potrei Dire che Può essere il futuro manifesto Eh ma infatti Guarda mi ha anticipato Perché Marcello Guarda ne parlavamo Proprio in macchina Ecco Ecco vedi Risolto Dovete fare delle piccole caricature Però degli altri componenti Certo Vorrà dire che la prossima volta Che saremo qui Ospiti Porteremo il resto Della ciurma Esatto E Charlotte Ci rifarà la ricaricatura Completerà Completerà Esatto Bene Con questo è tutto Noi proseguiamo Con i nostri appuntamenti consigliati E vi salutiamo nuovamente E augurandovi una buonissima estate Grazie altrettanto Ciao a tutti Vi aspettiamo Ciao C'era qualcosa ed avevo paura Ma non eri tu Sento un rumore che viene dal cuore Ma che male fa Ed io sognavo da tempo l'amore Tra un libro chiuso e la voglia di te Stringimi addosso il tuo corpo Mi piace Ma lo sai Sentirsi donna Da un colore nuovo i giorni miei Per te ora donna Tutto il resto non esiste più Lungo quel muro davanti al cortile Ho scritto in rosso qualcosa di noi Un cuore e un nome per dirti che sei Solo per me Respirando insieme a te Stai entrando dentro me Le tue mani Mi sfiorano i baci tuoi Non mi lasciano tempo di dirti che Questa notte vorrei Questa notte vorrei Si vorrei Un amore infinito per noi Respirando 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 La notte per noi C'è una bottega nel chiasso assordante Nella mia città Si chiama cuore a rinchiuso all'interno Tutti i miei perché Non mi sarei mai concessa in amore Se non all'uomo che ho scelto per me Perché sei l'unico sello vorrai Ora che Sentirsi donna Da un colore nuovo i giorni miei Per te ora donna Tutto il resto non esiste più E ci guardiamo vicini in silenzio La stanza ora sa tutto di noi Ma voglio darti l'amore che ho Restiamo qui Respirando Insieme a te Stai entrando Dentro me Le tue mani Mi siorano i baci tuoi Non mi lasciano il tempo Di dirti che Questa notte vorrei Questa notte vorrei Si vorrei Un amore infinito per noi Per te Mi siorano i baci tuoi Mi siorano i baci tuoi Respirando Respirando Ringraziamo nuovamente i nostri ospiti del giorno E proseguiamo con la nostra puntata del mercoledì Lo facciamo con gli appuntamenti consigliati E tra poco i saluti finali Densinevada Via Olmo 1 Terrossa di Ronca Verona Per info Densinevada.it Giovedì 16 Si balla con Silvia Urbani Sabato 18 Oscar e Fausto In sala 2 Lattino Chizomba Il ristorante Pizzeria Chiciatore Vi aspetta con ottime specialità Pizzeria Roncari Cornedo Vincentino Per info 044-5951-199 Tutti giovedì Si balla nel terrazzo estivo Con ingresso in libero Giovedì 16 Mister Domenico Il ristorante propone specialità della casa E ottime pizze Settantesima edizione Festa del risotto Villimpenta Mantova 16 giugno Orchestra Jonathan E Gianni Dego Venerdì 17 Si balla con l'orchestra Bagutti 18 giugno Latinoamericano Gran finale Domenica 19 giugno Con l'orchestra Katia Domeniche Aperto anche a mezzogiorno Tutte le sere Ballo Ingresso libero Ampio parcheggio 35esima festa Castel Bricondo Sobuono Verona Venerdì 17 Le ore 21 Serata Invasioni Sonore Concorso per band Cantanti emergenti Sabato 18 Si balla con I Rodigini Domenica 19 Orchestra Daniele Cordani Lunedì 20 Orchestra Magri Lisoni Serata con ospiti Conduce Serena Carletti Ospiti Giampiero Vincenzi Orchestra Andrè Souvenir I Legni Festival Stand gastronomici Pesca di beneficenza Ingresso libero Il comitato Macacari Oggi Presenta 37esima festa di fine primavera Macacari Verona Dal 17 Al 21 giugno Venerdì 17 Alinere in concerto Tributo ai nomadi Sabato 18 Si balla con Arianna Group Domenica 19 Orchestra Morris e Paola Fabiani Lunedì 20 Orchestra Lara Agostini Martedì 21 Si balla con I Rodigini Stand gastronomici Luna Park Pesca di beneficenza Ingresso libero Orchestra Nadia Nadivi Aspetta Sabato 17 Domenica 18 Settembre A Marebello di Rimini Per un weekend in musica Tutto incluso a persona Suri 110 euro Prenotazioni entrano inoltre Il 31 luglio Per info 338 217 9710 Per gli amici di Verona Partenza da Mantua Nord E termina così Questo mercoledì 15 giugno L'appuntamento con Seri in Festa È per domani mattina Sempre alle 11.15 puntuali Vi aspetto numerosissimi Vi lascio in compagnia Con Antonella Marchetti Che se ci sta ascoltando Saluto e la ringrazio Per le ciliegie Che ci ha fatto recapitare E ci ascoltiamo Un suo bellissimo brano Il titolo è Vagabunda A domani Sempre qui a Seri in Festa Grazie a tutti So che non potrai capire Quello che io ti dirò Tu mi parlerai d'amore Io lo so Ma nel cuore di una donna C'è un segreto che non sai Donna a volte Vuole dire anche folle Due rose rosse Un diamante per sempre Mi hai detto ti amo davvero Ti prego Vuoi essere mia Ma nel mio cuore C'è la voglia d'amore Donna a volte Vuole dire anche folle Sono vagabunda Mille volte in donna Nel mio cuore soffia il vento dell'amore Sono vagabunda Non sono la tua donna Tu non vuoi capire ma È la pura verità Non mi chiedere di diventare tua Non mi chiedere di diventare tua Noi per sempre e mai Poi lo capirai Prendimi così Non cercare di capire Tanto non ci riuscirai Il mio cuore non vorrà legarsi mai Non mi voglio innamorare C'è un segreto che non sai Donna a volte Vuole dire anche folle Due rose rosse Un diamante per sempre Mi hai detto Ti amo Da vero Ti prego Vuoi essere mia Ma nel mio cuore C'è la voglia d'amore Donna a volte Vuole dire anche folle Sono vagabunda Mille volte in donna Nel mio cuore soffia il vento dell'amore Sono vagabunda Non sono la tua donna Tu non puoi capire ma È la pura verità Non mi chiedere di diventare tua Non mi chiedere di diventare tua Non mi chiedere di diventare tua